Qualcuno ha detto che il più grande contributo di Billy Wilder al cinema americano è stata l'intelligenza. Ora, non sarei così riduttivo nei confronti degli altri film americani, però è indubbio che i suoi film hanno una marcia in più rispetto a quasi tutti i film hollywoodiani contemporanei. Wilder era nato col nome di Samuel Wilder sotto l'impero ostro-ungarico e si era formato come sceneggiatore per il cinema tedesco negli anni della Repubblica di Weimar. Quando arriva negli Stati Uniti a metà degli anni 30 porta con sé la cultura mitteleuropea più libera e trasgressiva e pur facendo propri i valori della società americana li continua a osservare per tutta la vita in modo distaccato, quasi da estraneo, sapendone cogliere le ipocrisie, le ossessioni e le contraddizioni. La prima caratteristica che si nota analizzando i suoi film è la capacità di spaziare fra i generi mantenendo una qualità altissima e spesso di volta in volta ridefinendo il genere che affronta, che sia la commedia sentimentale, il film noir, la satira sociale, la farsa oppure il thriller alla Hitchcock. Ma la caratteristica che fa di Wilder uno dei più grandi registi in assoluto è stata la perfezione del congegno narrativo portata al grado più alto ma dissimulata attraverso uno stile neutro che non concede nulla ai preziosismi che evita tutto ciò che potrebbe distrarre dalla storia perché Wilder si è sempre considerato un intrattenitore più che un artista o un autore e si considerava uno sceneggiatore più che un regista quindi dedicava la massima attenzione a raccontare in modo godibile ma anche originale e proponendo tematiche controverse o perfino tabù per l'epoca. Oltre l'umorismo e l'eleganza del suo stile Wilder ha spesso utilizzato i suoi film per fornire un punto di vista critico sulla società. Ha affrontato temi come l'arrivismo, l'avidità, la superficialità delle relazioni umane. Nei suoi film anche quelli più apparentemente superficiali prende di mira con estrema lucidità e intelligenza il conformismo, la retorica, il lato ipocrita e moralista della società americana moderna. Una società in cui il denaro è l'unica divinità da adorare e alla quale tutta la società si sacrifica. La frase che racchiude il suo approccio alla società contemporanea e che naturalmente è indicativa della sua ironia è le persone sono disposte a tutto per i soldi eccezione fatta per alcune che sono disposte a quasi tutto per i soldi. Nei suoi film il denaro si lega inscindibilmente all'altra grande ossessione del tempo, cioè il sesso. Wilder stravolge le regole in tutti i suoi film da regista a partire dal primo, Frutto proibito, un film bellissimo oggi poco ricordato sul tema dell'attrazione per le minorenni, dieci anni prima della Lolita di Nabokov e venti anni prima del film di Kubrick. Se sesso e denaro sono i cardini della società, ecco che l'amore nei suoi film significa quasi sempre prostituirsi o in generale offrirsi per un vantaggio economico. Questo è uno dei temi costanti in Wilder, a volte espresso in modo totalmente esplicito, pensiamo a Irma la dolce o Baciami stupido, altre volte in modo più indiretto come in Viale del tramonto o come in A qualcuno piace caldo, dove il tutto viene espresso in termini comici ma non per questo meno chiari. Wilder è stato per decenni accusato di essere un cinico e di essere volgare, in realtà è stato soprattutto un grande osservatore dei comportamenti delle persone, quasi uno scienziato delle relazioni umane. Anzi, a ben vedere, sotto traccia i suoi film rivelano uno spirito romantico e malinconico. Anche in questo film affronta il tema del sesso e della morale in modo spregiudicato e anticonformista. L'altro grande leitmotiv che si ritrova qui e in tutti i film di Wilder è l'uso del travestimento e della sostituzione. L'occultamento dei personaggi e degli oggetti è qualcosa che torna di continuo e serve a svelare il conflitto tra ciò che si appare e ciò che si è veramente, tra l'autenticità umana e l'inganno messo in atto dalle convenzioni sociali. A qualcuno piace caldo arriva nella fase di piena maturità della carriera di Wilder, quando ha da poco incontrato il cosceneggiatore A.L. Diamond, detto Easy, con cui lavorerà fino agli anni 80. Wilder aveva collaborato nella prima parte della sua carriera con un altro grande sceneggiatore Charles Brackett. Con Diamond forma dal 1957 un'altra eccezionale copia di autori, una delle più importanti della storia del cinema. Va detto subito che il film non è un soggetto originale, in realtà è il secondo rifacimento di un film francese degli anni 30, Fanfare d'Amour, titolo italiano Su con la vita, da cui trae l'idea di base di due musicisti squattrinati che si vestono da donne e si uniscono ad un'orchestra femminile. Il film era già stato rifatto in Germania negli anni 50, per questo parlo di un secondo remake. Alcune delle situazioni come la girandola degli equivoci sul treno o i vari corteggiatori indesiderati sono tutte idee presenti nel film francese che ritroviamo elaborate, perfezionate o più spesso riscritte in modo completamente diverso nel film di Wilder che elimina tutto ciò che sembrava ridondante o non abbastanza divertente e crea da questa farsa sulla confusione tra i generi uno dei capolavori della comedia cinematografica. L'ambientazione del film negli anni 20 risponde ad una serie di questioni che Wilder e Diamond si trovano ad affrontare, prima di tutto rendere credibile il fatto che i due protagonisti ricorrano alla misura estrema di travestirsi da donne. Ecco quindi il fatto di sangue è la necessità di nascondersi e fuggire che diventa una questione di vita o di morte. Se poi l'episodio è qualcosa all'epoca ben presente nella memoria degli spettatori come la strage di San Valentino, l'effetto è ancora più forte. Il film a quel punto viene ad essere ambientato alla fine degli anni 20, l'era del proibizionismo, dei gangster e della moda del jazz. Un'epoca ritratta in moltissimi film hollywoodiani che, come vedremo, avevano tra i protagonisti alcuni degli attori che ritroviamo qui. Non va dimenticato che siamo ancora negli anni in cui negli Stati Uniti l'omosessualità è un reato e la discriminazione dei sospetti omosessuali è sancita dalla legge. Questa vera e propria persecuzione prendeva il nome di Lavender Scare sul modello del Red Scare, cioè la paura del comunismo. Questo è uno dei film grazie ai quali ci si accorge che il sistema della censura cinematografica non ha più senso d'essere e infatti il film, per quanto la tematica fosse osè per l'epoca, viene approvato dai censori di Hollywood. Durante gli anni 50 le maglie della censura si erano progressivamente allentate grazie a registi come Otto Preminger, anche lui immigrato negli Stati Uniti negli anni 30, e grazie ad altri registi tra i quali lo stesso Wilder. Sull'importanza dei registi europei nello sviluppo di Hollywood parlerò più in dettaglio in un'altra occasione, per ora dico solo che di origine europea come lui erano i due registi che Wilder considerava suoi maestri e fonte di ispirazione. Da un lato Erich von Stroheim per il dramma, dall'altro Ernst Lubitsch per la commedia. Di Lubitsch in particolare riprende la capacità di alludere maliziosamente a situazioni scabrose e di usare i doppi sensi in modo da muoversi tra le maglie della censura non mostrando mai nulla di esplicito ma lasciando che siano gli spettatori a immaginare ciò che sta succedendo. In un'epoca in cui nei film americani marito e moglie dovevano usare letti separati, Billy Wilder dietro la facciata umoristica riesce a parlarci di erezioni mostrando un ascensore che sale, una gamba che si alza o un papillon che si allunga. Ci parla di impotenza e di castrazione, ci parla di omosessualità maschile innanzitutto, ma non dimentichiamo la scena del bacio fra Josephine e Sugar, la cosa più vicina ad un rapporto lesbico che si fosse mai vista in un film americano dopo il bacio di Marlene Dietrich in Marocco. E, come non citare, i vestiti di Marilyn, audacissimi per il cinema americano di quegli anni che prenderanno il premio Oscar. È un film che anticipa la liberazione sessuale degli anni 60 e che soprattutto diventa uno dei film chiave per capire l'evoluzione del cinema hollywoodiano e dei gusti del pubblico quando finisce l'era degli studios. Some Like It Hot è un film da ritmo incalzante, ma va sottolineata la metodicità con cui la storia si sviluppa prima di arrivare alla svolta narrativa principale, cioè il travestimento dei due protagonisti. Prima di tutto c'è la meditazione spaziale e temporale, Chicago nel 1929 nell'era del proibizionismo e dei gangster. Poi ci vengono presentati i due protagonisti, il loro rapporto di amicizia conflittuale e la loro diversità di carattere e personalità. Poi il motivo che rende obbligata la scelta di travestirsi un episodio ben conosciuto al pubblico come abbiamo detto la strage di San Valentino. Un esempio di questa maestria di Wilder e Diamond nello strutturare il racconto è proprio l'attenzione nel presentare i vari personaggi e le situazioni con molta cura, puntando a colpire da subito lo spettatore con un evento che catturi l'attenzione e poi sviluppando la storia in modo che sia conservata la conseguenzialità logica degli avvenimenti. Wilder amava dire che gli spettatori vanno presi subito alla gola senza mollare la presa fino alla fine del film e bisogna arrivare a ciò usando la sorpresa, ma tutti i nodi narrativi si devono susseguire fluidamente, non ci deve essere mai nulla di gratuito e quando ci ritroviamo ad un certo punto nelle situazioni più illogiche e folli non abbiamo nessun problema ad accettarle essendo il naturale sviluppo la naturale conseguenza di quanto abbiamo visto succedere fino a quel momento. Alla fine gli spettatori hanno senza accorgersene passato i primi 25 minuti del film a mettere insieme tutta questa serie di elementi narrativi che sono la base per quello che avviene dopo. Da quel momento in poi, cioè da quando vediamo Joe e Jerry nelle loro nuove identità e soprattutto dal momento dell'apparizione di Marilyn Monroe, il film si sviluppa con un ritmo inarrestabile, è come la corsa di un treno che ci porta fino alla conclusione senza perdere mai di forza. Va detto infine che Wilder aveva un'abitudine particolare, iniziava a girare i film quando la sceneggiatura non era ancora completata. Questo gli permetteva di adattare la storia in base agli attori perché aveva sempre il tempo di capire ciò che avrebbe funzionato meglio. Le storie legate ai travestimenti, agli scambi fra uomo e donna eccetera non sono certamente una novità essendo da sempre una costante del teatro, basti pensare a Shakespeare o alla comedia dell'arte. La confusione dei ruoli viene sfruttata soprattutto ai fini comici e questo vale anche per il cinema. Dei tantissimi film in cui questo meccanismo viene sfruttato vorrei ricordare il film tedesco Victor e Victoria del 1933 e le commedie di Howard Hawks e George Cukor. Uno degli elementi distintivi dello stile di Billy Wilder è stata la sua capacità di creare personaggi realistici e umani con tutta la complessità, i pregi e i difetti delle persone reali. Questa abilità di dipingere ritratti autentici gli ha permesso di creare profondità psicologica anche nei personaggi più comici. Ogni personaggio ha un carattere ben definito, un background e una personalità che lo rendono unico. Questa attenzione al dettaglio psicologico permette di sviluppare la storia in modo credibile. La caratterizzazione di Jerry, Joe e Sugar, così come di Daphne, Josephine e Junior, è un esempio di come Wilder non cerchi mai la risata fine a se stessa, ma ogni dialogo, oltre che a far ridere, serve a farci scoprire dei dettagli che saranno utili nel prosieguo della storia. Da notare anche l'equilibrio fra i ruoli dei tre protagonisti. Nessuno prevarica sugli altri e tutti hanno la possibilità di esprimersi al meglio in sequenze memorabili, integrando di volta in volta nel flusso ininterrotto di gag anche il resto del cast, da Goethe e i suoi scagnozzi, al milionario Osgood, fino ai duetti fra John Scholey e Dave Barry. Il jazz, che è parte integrante della storia e cui allude anche il titolo del film, è stato un elemento fondamentale dello spirito ribelle degli anni venti. I numeri musicali, che normalmente in una commedia possono provocare un calo del ritmo, in questo caso sono così ben inseriti, brevi e coinvolgenti da risultare perfetti. Anche i testi dei brani, cantati da Marilyn, rimandano alla situazione che il suo personaggio sta vivendo in quel momento. Ma passiamo ora a esaminare il cast strepitoso di questo film. Inizio dalla donna sex symbol per eccellenza della storia del cinema, ma anche una delle poche grandi star femminili ad essere stata amata da più generazioni di spettatori fino ad oggi e in misura uguale dagli uomini come dalle donne. Quando era sullo schermo era capace di irradiare carisma in modo unico. Di lei parlerò più nel dettaglio a proposito dell'altro grande capolavoro interpretato da Marilyn sotto la regia di Billy Wilder quando la moglie è in vacanza. Qui la Monroe ripropone la bionda sexy, svampita, ingenua, personaggio da lei interpretato in tanti altri film, ma qui c'è qualcosa in più, c'è una donna ferita nei sentimenti che esprime una sensibilità e una fragilità disarmanti. Nel personaggio di Sugar c'è tutta la vera Monroe, ovvero Norma Jean Baker. Probabilmente questo è il ruolo più autobiografico che abbia mai interpretato in carriera. Girare il film non fu però una passeggiata né per lei né per chi con lei lavorava. Già anni prima, nel 1956, quando la sua stella splendeva al massimo, per questa donna profondamente insicura era iniziata una serie di problemi personali tanto che aveva diradato le apparizioni nei film. Arriva sul set di a qualcuno piace caldo dopo più di un anno senza recitare, ormai dipendente dai sonniferi e dall'alcol. Ha appena avuto un aborto spontaneo, durante le riprese resta di nuovo incinta e abortirà di nuovo dopo la fine delle riprese. La sua figura è appesantita rispetto ai film precedenti, ma i segni del decadimento fisico non sono un problema perché nulla intacca la sua bellezza. A ripercuotersi sul suo lavoro di attrice sono invece i problemi psicologici. Arriva sempre il ritardo sul set, ore e ore di ritardo nelle quali cerca di trovare la forza per presentarsi davanti alla macchina da presa. Oltre a questo c'è una vera e propria fobia che le fa sbagliare continuamente le battute. Infatti mentre Marilyn riusciva senza problemi a recitare nelle scene in cui condivideva l'inquadratura con gli altri protagonisti, per esempio nella scena della cuccietta, girata una volta sola e già perfetta, quando invece è lei ad essere al centro dell'attenzione diventa preda dell'ansia e sbaglia continuamente. È rimasta famosa la scena in cui frugano i cassetti per cercare il whisky, per la quale le serviranno 80 chuck prima di riuscire a dire quell'unica battuta senza errori. Questo si ripeteva quasi costantemente. Curtis e Lemon in compenso erano sottoposti allo stress di non poter sbagliare mai le loro battute nell'attesa di quell'unico chuck riuscito. Non è difficile capire perché ad un certo punto, durante la lavorazione, Tony Curtis abbia detto che baciare Marilyn era come baciare Hitler. Fra problemi sul set, ritardi e assenze di Marilyn, il tempo di produzione si allunga di quasi un mese. Billy Wilder, appena finito il film, dichiarerà di non voler mai più lavorare con la Monroe e nel suo film successivo inserirà fra i personaggi una sua imitatrice prendendola bonariamente in giro. Ma nonostante tutto Wilder sapeva bene che con Marilyn il risultato finale valeva qualsiasi sacrificio e infatti l'avrebbe voluta anche nel ruolo di Irma la dolce, cosa che non si realizza a causa della morte prematura dell'attrice, come è noto. Vorrei concludere ritornando per un attimo al film. In questa scena è abbastanza evidente come Marilyn fosse costretta a leggere le battute dal gobbo. Un altro regista avrebbe forse fatto rifare la ripresa, ma questo vagare dello sguardo a destra e a sinistra esprime in modo perfetto tutto lo smarrimento di chi si sente morire dentro e non sa più dove aggrapparsi. Il risultato della sua interpretazione in questo film è forse il migliore di tutta la carriera di Marilyn. A mio parere la dimostrazione che non solo era una straordinaria attrice brillante, ma era anche capace di suscitare momenti di grande intensità e commozione. Lemon era ancora una star di secondo piano rispetto a Tony Curtis e Marilyn Monroe, ma grazie a questo film diventa uno dei più famosi e acclamati attori di Hollywood e consolida il suo rapporto con Wilder in altre sei pellicole fino agli anni 80, diventando il suo interprete di riferimento. Del rapporto fra Wilder e Lemon possiamo dire che i due si esaltavano a vicenda. Lemon, considerato l'uomo qualunque per eccellenza del cinema americano, era capace di un'energia specialmente nella mimica facciale tale da rendere straordinarie le scene in cui compare. Inoltre aveva un senso del ritmo delle battute che ne faceva un interprete perfetto per le commedie. Una delle cose più difficili al cinema, così come a teatro, è trovare i tempi giusti, il ritmo delle battute degli attori. Billy Wilder è stato uno dei registi più capaci di dare ritmo alle scene sia per i dialoghi sia per la prossemica, cioè le posizioni degli attori, la gestualità eccetera. Non solo, il suo senso del ritmo si estendeva anche alla messa in scena e ai movimenti di macchina, sempre calibratissimi e mai fini a se stessi. Tanto perfetto era il suo istinto che riusciva a montare il film direttamente in fase di ripresa, cosa considerata impossibile in un lungometraggio. Sapeva esattamente quando terminare ogni scena e come collegarla alla successiva. Il lavoro di montaggio alla moviola diventava ridottissimo. Questa capacità l'aveva imparata all'inizio della sua carriera da regista quando non voleva che i produttori interferissero con il montaggio del film e quindi riduceva le riprese al minimo in modo che non ci fosse la possibilità di fare modifiche successivamente. Wilder era un maestro nell'eliminare i tempi morti, tutto ciò che non è indispensabile a fare procedere la storia, ma ciò non vuol dire che tutto dovesse essere fatto di corsa. Anzi, Wilder era attentissimo in tutti i suoi film a trovare per ogni scena il cosiddetto respiro giusto e in questo Lemon diventa uno strumento nelle sue mani. Un esempio da manuale del cinema è la scena delle maracas, una delle più divertenti del film. Wilder fa cantichiare a Lemon subito dopo ogni battuta perché sapeva che le risate del pubblico al cinema dovevano trovare lo spazio per inserirsi nel flusso del film senza andare a coprire la battuta seguente. Le maracas fanno da ponte fra le risate e il dialogo successivo. Ecco quindi che, sebbene durante le riprese nessuno capisse perché Wilder voleva far usare le maracas, quando il film fu proiettato al cinema divenne chiaro il motivo di quella scelta geniale. In quella che è una delle sue più grandi prove d'attore, Tony Curtis interpreta ben tre personaggi, Joe, Josephine e Junior. Se per interpretare il bel musicista donaiola e bugiardo non deve aver fatto molta fatica, molto più complicata fu l'esperienza nei panni di donna. Fu chiamato sul set uno dei più famosi artisti del travestimento, Barbette, per aiutare i due protagonisti a sembrare più credibili, ma se ne andò dopo pochi giorni. In realtà Curtis e Lemon, da grandi attori brillanti, non ne avevano bisogno perché istintivamente capirono che così come Joe e Jerry si distinguono nel carattere e nel modo di fare, così una volta trasformati in donne dovevano assumere atteggiamenti ben distinti, Josephine donna riservata e pudica, Daphne estroversa e chiacchierona. In questo modo i due personaggi femminili si completano a vicenda. Per il look di Josephine, Curtis prese a modello alcune attrici famose all'epoca, creando una specie di incrocio fra Eve Arden e John Crawford. Per il modo di fare si ispirò invece a Grace Kelly. La terza trasformazione di Curtis è quella nel giovane milionario Shell Jr. Come probabilmente molti di voi sapranno, per interpretarlo Curtis imitò la voce e l'accento di Cary Grant, suo idolo e uno dei più grandi attori hollywoodiani di ogni tempo, che aveva un modo di parlare inconfondibile derivato anche dal suo essere inglese di nascita, ma emigrato giovanissimo negli Stati Uniti, una fusione quindi dei due accenti. Billy Wilder aveva cercato per anni di fare un film con Grant protagonista senza riuscirci, anzi avrebbe voluto averlo in ben quattro dei suoi film. La cosa non si realizzò mai, ma in qualche modo grazie a Curtis riesce a scritturarlo virtualmente perché l'imitazione che ne risulta è veramente azzeccata. Tanto per chiudere il cerchio, come non ricordare che Cary Grant a sua volta aveva interpretato anni prima film in cui si traveste da donna con risultati esilaranti. Curtis e Grant giraranno insieme pochi mesi dopo una commedia, Operazione sotto veste, che è l'altra grande commedia del 1959, come questo un film eccezionalmente divertente in cui entrambi avranno modo di confermare tutte le loro qualità di attori brillanti. Una curiosità, la voce di Josephine nel film non è di Tony Curtis perché risultava troppo maschile per essere credibile. Così Wilder fece ridoppiare Curtis da un grande artista della voce, imitatore americano, di nome Paul Freeze. Parlando di doppiaggio vorrei spendere un minuto per parlare della versione in italiano di questo film. Alla pratica del doppiaggio si potrebbero dedicare ore analizzando i pro e i contro, per esempio il rischio che venga utilizzato per censurare i dialoghi, come spesso è accaduto. Resta il fatto che questa tecnica, nata negli Stati Uniti, è stata portata ai massimi livelli proprio in Italia, dove raggiunse rapidamente una perfezione tale da diventare un processo impercettibile per gli spettatori. Capita ogni tanto che la voce italiana si attagli così bene ad un attore o ad un'attrice da diventare quasi una scelta naturale in tutti i doppiaggi. Gli esempi sarebbero tanti. Qui per i tre protagonisti abbiamo alcune delle più felici unioni tra volto e voce che si possano ritrovare nella storia del doppiaggio. Giuseppe Rinaldi, che era la voce italiana di Lemon già da alcuni anni e resterà tale per oltre 40 anni, è stato forse il più bravo doppiatore dagli anni Sessanta fino agli anni Novanta. Altra voce maschile meravigliosa è quella di Pino Locchi, che con Tony Curtis costituisce un'altra coppia fissa, quasi senza interruzioni, dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta. Lo ricordiamo naturalmente anche per i suoi straordinari doppiaggi di Sean Connery. Infine la Monroe, che è doppiata qui e per gran parte della sua carriera da Rosetta Calavetta, la cui voce squillante e incredibilmente femminile riesce ad adattarsi in modo magnifico sia alla Marilyn brillante che a quella più malinconica. Ma anche tutti i personaggi secondari del film sono doppiati in modo eccellente, in particolare va citato Lost Goodfielding con la voce di Carlo Romano. Purtroppo nelle nuove edizioni su DVD e Blu-ray il doppiaggio italiano è stato maciullato, ma quella è un'altra storia. Tornando al cast, fra i co-protagonisti spicca Joey Brown, un comico molto popolare negli anni Trenta che ormai era quasi dimenticato. Con la sua interpretazione del milionario innamorato di Jack Lemmon entra nella storia del cinema. George Raft, attore che era diventato famoso negli anni Trenta per le sue interpretazioni di gangster, insieme a nomi come James Cagney, Edward G. Robinson e Humphrey Bogart, ma che era anche una specie di gangster egli stesso, amico di esponenti della criminalità e perfettamente a suo agio nel ruolo di Ghette. Pat O'Brien, anche lui protagonista di moltissimi film di gangster, spesso nel ruolo del poliziotto, ruolo che qui appunto riprende. Vediamo ora nel dettaglio alcune sequenze particolarmente rilevanti, che in questo film vuol dire anche particolarmente divertenti, ma non solo. Grazie a tutti.